Il Trentino sta investendo sempre più sul concetto di cultura della sicurezza del lavoro, parlare di sicurezza sul mondo del lavoro nelle scuole, anche con quelli che sono le sperimentazioni, le opportunità, con quelle che sono le opportunità, per esempio se colleghiamo il discorso all'alternanza scuola-lavoro, è fondamentale che la scuola possa dare ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze sempre più elementi, competenze, consapevolezza e conoscenza per quanto riguarda il tema fondamentale della sicurezza sul mondo del lavoro. Farlo a scuola vuol dire iniziare fin da subito con quella che è appunto una diffusione di questa cultura che poi assieme ad associazioni, esperti, professionisti e aziende viene veramente poi amplificata e portata in tutta la nostra società e facendo questo il risultato per il domani crediamo che veramente possa essere migliore ed importante.